Ti è mai capitato di sbagliare una rivista, guardare una pubblicità o addirittura guardare una foto pubblicata sui social media e pensare Ma come diamine è stata realizzata questa foto? Beh, la verità è che dietro ogni scatto straordinario ci sono tecniche segreti e decisioni ben ponderate E in questo video ti andrò a svelare 10 segreti che soltanto i fotografi di successo applicano alle loro fotografie Prepari quindi la tua camera e la tua mente perché dopo aver visto questo video il tuo modo di fare fotografia potrebbe cambiare per sempre Ma intanto se non mi conosci mi chiamo Alessandra, sono un fotografo freelance e docente fondatore di Photo Mastery School La prima scuola di fotografia online nel quale aiutiamo foto amatori e aspiranti professionisti a costruire una carriera gratificante nel modo della fotografia La regola dei terzi è oltre La regola dei terzi è una delle prime regole di composizione che ogni aspirante fotografo impara Ma un fotografo esperto sa effettivamente quando seguire questa regola e quando invece infrangerla L'immagine viene suddivisa in queste nove parti uguali e il soggetto viene posizionato all'interno di uno di questi punti di forza Ma il vero segreto è capire come andare oltre questa regola magari per creare tensione e dinamismo all'interno della scena e creare magari un'atmosfera più particolare La giusta quantità di bokeh Il bokeh o quell'effetto sfocato sullo sfondo è amato da tutti i fotografi Ma non si tratta soltanto di avere l'obiettivo più luminoso Si tratta di comprendere di come e quanto utilizzare questa tecnica magari per mettere in evidenza il soggetto principale E distaccarlo da uno sfondo magari troppo caotico che va a distrarre Osservare la luce La luce può fare o distruggere una fotografia I fotografi di successo sanno sicuramente come utilizzare la luce naturale non solo E soprattutto non hanno paura anche di sperimentare cose diverse Che si tratti della luce dorata all'alba o di ombre drammatiche durante un tramonto La chiave è sempre saper osservare e adattarsi La composizione parla Ogni elemento in una foto comunica qualcosa E un fotografo esperto non posiziona mai un elemento in modo casuale Che si tratti di colori, linee, forme o spazi vuoti Tutto ha un motivo e un messaggio Less is better Ovvero meno e meglio Perché a volte l'essenziale è proprio la chiave Perché molto spesso non si tratta di cosa metti all'interno di una foto Ma soprattutto cosa scegli di escludere dall'inquadratura Perché un'immagine semplice e pulita può avere un impatto molto più forte rispetto a una foto magari troppo affollata Post-produzione ma con moderazione La magia della post-produzione può trasformare un buono scatto in uno scatto straordinario Tuttavia l'over-editing quindi quando esageriamo con la post-produzione può invece andarla a rovinare Il segreto quindi è saper equilibrare e migliorare ma senza alterare l'essenza dell'immagine L'emozione è tutto Una foto tecnicamente perfetta ma priva di emozioni è come un libro senza trama Che tu stia fotografando una persona, un oggetto Trova sempre il modo di emozionare attraverso l'immagine Magari cercando di raccontare qualcosa, di far passare un messaggio Appunto riuscendo ad emozionare Quindi dando quel qualcosa in più Essere sempre pronti I momenti migliori spesso arrivano all'improvviso Una raffica di vento, un raggio di sole attraverso le nuvole O magari un sorriso spontaneo quando parliamo chiaramente di ritratto Un fotografo con esperienza dovrebbe essere sempre pronto quindi a riuscire a catturare Di questi momenti a volte così improvvisi Conoscere l'attrezzatura ma senza diventarne schiavo Conoscere a fondo l'automacchina fotografica e gli obiettivi Dà sicuramente libertà di sperimentare e adattarsi a diverse situazioni Tuttavia il vero talento non risiede certo nell'attrezzatura Ma nell'occhio e nella creatività del fotografo Proprio per questo rimani un eterno studente La fotografia come tutte le arti è in continua evoluzione E i fotografi per quanto già di successo Non smettono mai di imparare Siano esse nuove tecniche, tendenze O anche andare a esplorare nuovi generi della fotografia Ok finisce qua questo video Se vuoi migliorare quelle che sono le tue competenze a livello fotografico O magari anche trasformare quella che è la tua passione In una vera professione Dai un'occhiata al link che trovi in basso in descrizione Perché da lì potrai avere una pagina di presentazione Nel quale ti vado a presentare appunto quella che è la mia scuola di fotografia online Con i diversi percorsi Da lì potrai accedere a una consulenza gratuita Nel quale capiremo insieme effettivamente se abbiamo un percorso Magari adatto a quelle che sono le tue esigenze E di conseguenza capire se potremo lavorare insieme Per il resto grazie Ci vediamo nel prossimo video Ciao e alla prossima Ciao Grazie.